C'è Alessandro Fusacchia, se è in platea, altrimenti Antonella Soldo e poi Fusacchia. Invito quando annunciamo gli oratori a venire vicino alla Presidenza in modo tale di abbassare i tempi morti. Inoltre, annuncio, stiamo facendo un po' di calcoli, sempre nell'ottica di dare la massima possibilità di parlare a tutti gli iscritti. Non sarebbe la nostra attenzione di spostare un po' più avanti la sticella fino alle nove e mezza in maniera continuata. La Presidenza darà la parola agli iscritti a parlare. Grazie a tutti. Grazie anzitutto per la chiarezza con cui parlate. Vista da uno che per la prima volta inizia a fare politica e partecipa a un congresso radicale ha un valore enorme. Che mi sta arricchendo molto. Io mi chiamo Alessandro, ho 39 anni, sono nato a Rieti e qualche mese fa con un gruppo di compagni abbiamo deciso di diventare da compagni di viaggio compagni nell'accezione in cui si usa in questa sala. Abbiamo costituito Movimenta, che è un'associazione radicale di iscritti radicali, che però in questi mesi ha raccolto l'adesione anche di altre persone, di tante altre persone che si sono iscritte a Movimenta pur non essendo iscritte radicali italiani. E credo che sia un elemento importante da tenere in conto di una serie di riflessioni e di ragionamenti che stiamo facendo in queste ore, perché è la prova della capacità di attrazione di quello che c'è dentro questa sala. E anche della capacità di contaminarci che possiamo avere con altre culture e altre esperienze. Il fatto che queste persone abbiano già deciso di unirsi a noi e che ci siano molte altre persone che ci stanno osservando, e il C è un C volutamente ambiguo, e stanno osservando voi che avete fatto questa associazione, stanno osservando i radicali italiani, un po' tutte e due, non lo so, dipende dai casi. Il fatto che ci stiano osservando, che ci stiano ascoltando anche in questo momento, io penso sia un elemento importante, perché è la cosa che abbiamo promesso a tutti. Non abbiamo promesso che andremo da qualche parte, però abbiamo cercato di essere chiari sul fatto che staremo sicuramente dalla parte di qualcuno. E le conversazioni che ho sentito in questi due giorni sono interessanti perché, alla fine dei conti, sono confronti per capire dalla parte di chi stiamo. Perché si è parlato molto di elezioni, ma secondo me dobbiamo comunque ricordarci sempre che, quando parliamo di elezioni e parliamo di formule, c'è sempre questo obiettivo molto forte che abbiamo messo dietro dell'Europa, ma che poi va riempito anche di una serie di contenuti. E questi contenuti, come sappiamo bene, sono da una parte tutte le battaglie, principalmente e non esclusivamente, sui diritti civili di radicali italiani, ma che forse là fuori si sente la necessità e arriva alla richiesta, perché noi siamo un po' portatori dentro radicali di questa richiesta, di dire ma forse c'è bisogno di radicali italiani e di questa radicalità anche su qualche altro tema. A noi interessa il tema del lavoro? E ovviamente ci interessa, l'ho detto più volte e lo ripeterò un sacco di volte, qualche anno fa in una chiacchierata con Emma Bonino, Emma mi disse una cosa che mi ha colpito molto, mi disse Tenti voi a parlare di merito o a parlare di qualche altro tema, un annetto o due, poi vi siete annoiati e passate a quello dopo. Ecco, lo dovete ripetere almeno dieci anni perché forse qualcuno comincia ad ascoltarvi. Quindi questa cosa che sto per dire sul lavoro nei prossimi dieci anni la ripeterò e è che il lavoro non è solo avere lo stipendio a fine mese, ma è l'aggancio con la società. Quindi noi quando diciamo che ci vogliamo occupare di lavoro non vuol dire che ovviamente c'è una preoccupazione in termini di tassi di disoccupazione o di inoccupazione nel Paese, ma a che fare col fatto che se c'è questa crescente mancanza di lavoro si sta sfaldando tutto e neanche ce ne accorgiamo. A noi interessa capire che cosa succede se cominciamo a mettere insieme il metodo, i valori radicali con i diritti sociali. Inteso in senso ampio. E con l'emancipazione economica. E una espressione che abbiamo cominciato a usare è che qui non c'è tanto la questione della conquista di un diritto, ma della conquista di un'opportunità. Perché quando parli di lavoro è un po' più complicato ottenerlo perché nessuno ti può fare una legge che ti dice che domani c'è il lavoro, ovviamente. E quindi ci piace questa idea della conquista del diritto all'opportunità. Poi arrivo qui e trovo tensione. E la capisco. Vedo che le idee si scontrano, eppure questo lo capisco. Vedo che ci sono interessi contrapposti, eppure questo lo capisco. Però c'è una cosa che vedo che non voglio vedere. Perché per me è il tradimento del racconto con cui io sono arrivato qui. E è la paura. E è la paura di cambiare pelle. Allora, che cosa intendo con questo? Che è come se veramente potessimo da un giorno a un altro, perché facciamo una cosetta, cambiare pelle. Ma noi siamo sicuri di quello che siamo, prima che di quello che facciamo. Io per tre anni, fino a pochi mesi fa, ho lavorato in un ministero italiano. E ho preso decisioni che allocavano centinaia di milioni. E che riguardavano la vita di centinaia di migliaia di persone. E nel bene o nel male, a torto ragione, mi capitava di farlo più o meno ogni settimana. Sono stato vicino al potere. E a un certo punto mi sono accorto che ero io il potere. Ma non ho cambiato pelle, perché ero vaccinato. Ero vaccinato. E ho fatto ogni giorno mediazioni con tante persone, perché si fanno le mediazioni. Ma la domanda è se riusciamo a non fare compromessi con noi stessi su alcune cose fondamentali. E dopo aver fatto esperienza, dopo aver assorbito quello che si poteva di buono che c'era, ho deciso di chiudere volontariamente quell'esperienza. Perché mi sono accorto di una cosa. Che non si poteva fare tanto più di quello che stavo facendo. E pensavo che un pochino stavo facendo, ma forse non era sufficiente. Perché ci mancava una cosa. E ci mancava la buona politica. E è per questo che ho deciso di scrivermi a Radicali Italiani. E' per questo che abbiamo deciso di cominciare a fare movimento. Perché volevamo buona politica. E perché ci serviva uno spazio aperto. Perché quello spazio lì, cari compagni, è uno spazio chiuso. Dove c'è la politica che dice che sono i burocrati. I burocrati che dicono che è la politica. E tutti insieme dicono che è sempre qualcun altro. Quindi noi dobbiamo recuperare un po' di aria. Dobbiamo recuperare questo spazio qui. E c'è un'altra ragione per cui abbiamo deciso di unirci. E di unire le forze. Perché il fatto che ci sono tanti compagni. Il fatto che non siamo soli. E' un elemento di garanzia per tutti. Perché se c'è una cultura politica di un certo tipo. Significa che quando sta per succedere qualcosa. Qualcun altro te lo dice. Ehi, occhio, attento. Forse qualcosa non va. Quindi questo ci dovrebbe dare a tutti. Un po' di serenità. Indipendentemente da che cosa decidiamo. Da come decidiamo. E provare a rilassarci un po'. E siamo venuti. Questo gruppo di persone che ha fatto movimento. Siamo venuti qui. E molti sono qui oggi anche. Perché eravamo sicuri che nonostante. Avessimo fatto un po' di esperienze fuori. Qui avremmo trovato persone più forti di noi. Che cosa intendo per persone più forti di noi? Persone con un po' di cicatrici in più di quelle che abbiamo noi. E questa è una cosa per cui noi vorremmo creare. Sempre di più. Come dire. Osmosi. E persone che non devono alzarsi la mattina. Per sapere chi sono. Perché si conoscono già. E perché sanno che qualsiasi cosa succederà. Non muteranno pelle. Resteranno quelle persone lì. E perché con gli anni. Hanno imparato a fare quella cosa che dicevo prima. A mutualizzare l'attenzione del rischio. Quando ti avventuri in un terreno nuovo. Se quando ti avventuri in un terreno nuovo. Non ci vai da solo. Ma hai sviluppato un meccanismo. Per cui tutto il gruppo con cui ci vai. Mutualizzi a questa attenzione per il rischio. Corri molto meno rischio. Forse non lo corri per niente. Poi dico anche un'altra cosa. Siamo venuti qui perché. Onestamente. Non volevamo essere confusi. Perché in una politica omologata. In cui si fa fatica a distinguere. L'originale dalle fotocopie. Per noi era importante essere diversi. Io non ho preso la tessera dei radicali. Perché potevo prendere la tessera. Anche di un altro partito. Io ho preso la tessera dei radicali. Perché non volevo prendere quella di un altro partito. E siamo venuti qui. Perché ci siamo immaginati per un attimo. Che cosa può succedere. Se proviamo a mettere insieme. Le battaglie per i diritti civili. Con quelle per i diritti economici. Se mettiamo insieme. Chi parla la lingua degli emarginati. Con chi parla le altre lingue parlate in Europa. Se mettiamo insieme. Chi fa da sempre attivismo. Testimonianza. Disobbedienza. Con chi fino a poco fa. È stato nel cuore delle istituzioni. E ha provato a chiararle da dentro. Magari. E se ci offriamo. La possibilità. E chiudo. Perché questo. Per me. E per noi. È il punto principale. Di costruire qualcosa. Di radicalmente nuovo. E francamente. Non lo so. Se è nuovo. Rispetto a un anno fa. A due anni fa. Al 2012. Ma sicuramente. Nuovo rispetto a quello. Che sta là fuori. Fuori da questa stanza. E noi. È questo. Che là fuori. Ragione o torto. Abbiamo già cominciato a raccontare. E sapete cosa sta succedendo. Stiamo riempiendo. Un sacco di persone. Di dubbi. In un paese. Di politici. Venditori di certezze. La cosa interessante. È quelli con cui parliamo noi. Gli stiamo facendo venire un dubbio. E guardate. Che non mi sembra una cosa da poco. E quando gli è venuto il dubbio. Quello che sta succedendo. È che a forza di continuare questo racconto. Dopo un po' tornano. Perché. Ancora hanno il dubbio. Che stiamo facendo sul serio. E che ci crediamo veramente. Ma è su questo dubbio. Che noi dobbiamo lavorare. Che dobbiamo cavalcare. E voglio dire a tutti. Che è questa l'aspettativa. Che sta là fuori. L'aspettativa di qualcosa. Di radicalmente diverso. E per usare un'espressione. Che ha usato il segretario. Distintiva. Qualcosa che non devi giustificare. Che non devi spiegare. Che si capisce da te. Perché è netta. E pulita. Nella sua strutturazione. E perché ti dice immediatamente. Senza filtri. Da che parte stai. E anche con chi non stai. Noi. Io penso. Abbiamo il dovere. Di essere all'altezza. Di questa aspettativa. E francamente. Non mi interessa. Se è l'aspettativa. Di mille persone. Di diecimila persone. Di un milione di persone. Perché tutte queste persone. Hanno il diritto. Di non turarsi il naso. Alle prossime elezioni. O peggio ancora. Di restare a casa. Quindi. E lo dico. A Riccardo. Lo dico a Marco. Lo dico a Benedetta. E ovviamente lo dico a Emma. Mettiamoci a costruire questa alternativa. Io lo so che è difficile. Lo so Emma che è difficile. Lo so che è praticamente quasi impossibile. Ma io credo che noi ci dobbiamo accrappare a quel quasi. E lo so che quando ti metti a fare i banchetti diventa come mi ripeti sempre tutto sangue e merda. Però voglio anche dire che forse non siamo così soli come pensiamo. Io ho ascoltato con molta attenzione la tua relazione. Le percentuali regioni per regioni. Facciamola per davvero. E questo è l'unico appello che faccio. Questa mappatura regione per regione. Di quanto siamo forti e che cosa possiamo riuscire a costruire. Perché io penso che se noi come Movimento aggiungiamo un pezzettino. Qualcun altro che secondo me interviene dopo di me aggiunge un altro pezzettino. Forse siamo ancora da nessuna parte. Ma forse no. E mi dispiacerebbe andare a dormire per un sacco di notti. Sapendo che forse l'avremmo potuto fare. Sono sempre più convinto che siamo noi che facciamo le circostanze. Non le circostanze che facciamo noi. E Mark Twain usa questa frase bellissima con cui vi lascio. Che dice non sapevano che fosse impossibile e per questo riuscirono a farlo. Grazie. Grazie. Grazie Alessandro. E' anche l'occasione per ringraziare i neocompagni di Movimenta.